All'inizio, un credo collettivo, più passa il tempo, più concreto, ispirato, emozioni liberate, uniti, fratelli, in un evento che trascende lo sport, gli eroi di una nazione, fiera ad un passo da casa, per un abbraccio glorioso, per un momento magico. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sorrisi Autore dei sorrisi